Inaugurato a Merone il primo museo del cemento, una tappa del progetto Make Como pensato per valorizzare la memoria del saper fare Comasco. Il museo è la metafinale di un percorso che attraversa il paese di Merone, raccontando la storia di un materiale e di un sito produttivo che hanno costruito l'identità e la memoria del paese. Il processo di industrializzazione ha lasciato e lascia tutt'oggi segni tangibili importanti. Obiettivo del progetto è sottolineare il valore che le attività produttive della zona hanno apportato ai 12 comuni coinvolti e ai loro abitanti. Olcim Italia ha accolto l'invito del Comune ad essere partner per la realizzazione della Via del Cemento, un percorso turistico-culturale percorribile a piedi, in grado di illustrare le tappe della storia del cemento, prodotto che dagli inizi del secolo scorso ad oggi caratterizza l'area di Merone. L'azienda ha messo a disposizione del Comune un'area dello stabilimento di produzione da destinare alla fondazione del museo. Nel museo è possibile scoprire le fasi del processo produttivo, raccontate anche da chi le vive e le ha vissute per anni. Lo spazio consente inoltre di gettare uno sguardo all'utilizzo di questo materiale. Il punto di arrivo è l'ingresso dell'unità produttiva, dove la strada in calcestruzzo verde è simbolo del percorso di Olcim e del settore delle costruzioni verso la sostenibilità e verso prodotti sempre più ecologici.